Nel momento in cui la lavoratrice diventa madre, si assume che lei non sarà più in grado di portare avanti a pieno i propri compiti da un punto di vista lavorativo. Effettivamente quello che noi vediamo sul mercato del lavoro italiano è che una donna su tre esce dal mercato del lavoro non appena ha il primo figlio. Alla base di questi dati noi abbiamo il grande elefante nella stanza, cioè abbiamo le attività di cura non retribuita che tradizionalmente sono sulle spalle delle donne. Questo modello che si chiama modello di welfare mediterraneo per cui sono le mamme, le nonne, le zie a prendersi cura. Con la pandemia International Labour Organization ci dice che sulle spalle delle donne italiane ora abbiamo ogni settimana 15 ore di attività di cura non retribuita in più. Chiaramente capiamo che non possono restare sul mercato del lavoro. Si tratta di porre le basi per un sistema diverso. Ricordiamo che se il tasso di occupazione femminile aumenta non sono soltanto felici le donne, le mamme, le famiglie, ma è felice l'intero sistema economico. Banca d'Italia qualche anno fa ci diceva che se non il 100%, ma solo il 60% delle donne italiane in età lavorativa chiaramente fosse occupato, avremmo un incremento di PIL di più 7%. Nei paesi in cui le donne lavorano di più il tasso di natalità è più alto. Grazie. Grazie. Grazie.